Qualche goccia ci rinfresca, ancora il numero 7, attenzione verticalmente, esce Barbieri, recupera la palla Batte Barbieri, panchina del Rebodengo spinge, Tagliani prova a toccare, la palla ancora sulla laterale, il pubblico anche fuori, spinge Tutta una grande gara, vedi, è sempre una gara di sport, le regole sono sempre le stesse e non fumate E se volete consumare qualcosa, mangiare qualcosa di buono, non mangiamo cose che fanno male in questa partitella, in questa partita Palla a terra, che batte Dumbi, siamo adesso al ventitresimo circa, questa gara di sport con gli amici blu del centrocampo Seconda categoria, 7 maggio, Isma, Isma, Ibra, anzi non falla, tiro, golla! Fall, ventitresimo, doppietta, ventitresimo!